Benvenuti, oggi sono a Volpiano e precisamente in via Genova al numero 64. Se state cercando una casa già ristrutturata e con il riscaldamento autonomo seguitemi. L'appartamento è composto da ingressolini nella sala, cucina abitabile, è un bellissimo terrazzino dal quale si accede direttamente dalla cucina. Due camera da letto, doppi servizi a entrambi finestrati, un balcone, Allora, se state cercando una casa ristrutturata, con il riscaldamento autonomo, un bel terrazzino, ma soprattutto con un box auto, così da dimenticarvi i problemi del parcheggio, contattatemi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.